Questa è la meditazione dell'uva passa. Per iniziare hai bisogno di due dacini d'uva passa o uva sultanina e un bicchiere di acqua. Se devi andare a prenderli, metti pure il video in pausa prima di iniziare. E se non ti piace l'uvetta, non preoccuparti. Puoi usare qualsiasi cibo o bevanda per questa pratica. Io ti guiderò con i miei due acini di uva passa. Inizia con una meditazione sul respiro così da prepararti nel migliore dei modi per ciò che andrai a fare. Per prima cosa porta la tua attenzione alla superficie che ti ospita. Porta la tua attenzione alle sensazioni tattili, a come la pelle sfiora i tessuti che indossi, a dove sono poggiati i piedi, a cosa eventualmente stanno toccando le mani, al peso del corpo che si appoggia, alla temperatura e allo spazio che ti circonda. cerca di osservare tutto senza giudizio, ma semplicemente con curiosità, come se potessi in qualche modo osservarti dal di fuori. Ora porta la tua attenzione sul respiro, a dove lo percepisci in maniera più evidente. Potrebbe essere il naso, oppure la gola, oppure la pancia o il petto. Lascia che sia il tuo corpo a suggerirti dove e quello sarà sicuramente il posto giusto per te. Se desideri chiudere gli occhi puoi farlo, forse ad occhi chiusi è più facile portare la tua attenzione sulle sensazioni che sperimenti durante la respirazione. Nota come tra l'ispirazione e l'espirazione c'è una micropausa. Lascia che il ritmo della tua respirazione sia naturale, non hai bisogno di cercare di respirare diversamente. Semplicemente osserva e se non riesci a sentire la micropausa va bene lo stesso. Non esiste un modo giusto per respirare, esiste ciò che tu stai sperimentando ora, in questo preciso momento. Quindi vivi tutto per quanto ti è possibile, con tranquillità ed accettazione. Semplicemente osservando e mettendo il giudizio da parte. Continua ancora per qualche respiro. Ora apri gli occhi se li avevi chiusi e inizia a guardare gli acini di uva passa che hai preso, perché saranno il soggetto per questa meditazione. Afferrane uno e guardalo come se fosse la prima volta che lo vedi. Se fosse così ti chiederesti cos'è quell'oggetto, perché forse non sai neanche che puoi mangiarlo. Osservalo con curiosità. Guarda come viene illuminato dalla luce della stanza. Nota come cambia il colore. Come potrebbe essere indefinito tra il nero e il marrone. Come a volte si percepiscono delle sfumature dorate. Nota come cambia a seconda del lato da cui lo osservi. Ci sono delle pieghe che forse ricordano delle rughe. Nota lo spazio tra una piega e l'altra. Nota le sue asimmetrie e caratteristiche uniche. Se mentre lo fai ti vengono pensieri come chissà che cosa serve oppure come mai sto facendo questa cosa strana, limitati ad ascoltarli e prova a metterli da parte per poi riportare l'attenzione all'acino. Ora porta la tua attenzione alla sua consistenza, a come le tue dita la percepiscono mentre lo stai toccando. prova a spostarlo sul palmo della mano e senti la differenza di percezione tra quando lo tocchi con le dita e quando è semplicemente poggiato sul palmo della mano. prova a farlo rotolare ed ora a premerlo con gentilezza con le dita. Senti come le sensazioni cambiano a seconda della pressione che eserciti o come forse restano invariate. Porta la tua attenzione su ciò che è senza cercare di sentire ciò che non riesci a sentire. Le tue sensazioni vanno bene, sono quelle che ti riportano a questo momento presente in cui stai tenendo un acino di uvetta in mano. Forse la consistenza del tuo è completamente diversa da quello che sto toccando io ora. Prova a farlo cadere sull'altra mano e senti se produce un qualche rumore, forse quasi impercettibile. Prova ora a portarlo vicino al naso e senti se riesci a perceperne l'odore. Se ci riesci, ti ricorda qualcosa? È un odore che hai già sentito? Se non senti nulla va benissimo così. Come ti dicevo prima, non cercare cose che non riesci a sentire. Le tue sensazioni vanno benissimo così come ti arrivano. Se ne percepisci il profumo, nota se nella tua bocca succede qualcosa. Ora portalo delicatamente alla tua bocca, appoggiandolo semplicemente sulle labbra. Resisti ancora per qualche istante alla tentazione di mangiarlo? Ci sono ancora cose che vuoi scoprire prima di farlo? Senti la sensazione che ti porta sulle labbra? Senti come la superficie rugosa si appoggia sulle labbra? E senti se con le labbra puoi ancora percepirne la consistenza. Ora resistendo alla tentazione di masticarlo, mettilo in bocca e in mezzo ai denti. Porta la tua attenzione su come ora percepisci la consistenza. Tieni l'opoggiato sulla lingua, magari a contatto con il palato alto. E anche qui porta la tua attenzione sulle sensazioni che provi. Ha la stessa flessibilità di quando lo tenevi tra le dita? Come risponde il palato al tocco dell'acino? E la lingua? Prova a spostarlo sotto la lingua e senti se cambiano le sensazioni ed eventualmente come cambiano. Puoi ancora percepirne la consistenza rugosa? Prova ora appoggiarlo con la lingua sulla guancia. Prima una guancia e poi l'altra. Tutto ciò che provi ora è la tua ancora per il presente. Non esistono sensazioni giuste o sbagliate. Esiste solo ciò che stai provando in questo momento. E anche l'assenza totale di sensazioni va bene. Vedrai che con la pratica diventerà tutto più chiaro. Ora prova delicatamente a morderlo solo con gli incisivi e quindi ad inciderlo senza romperlo completamente. potresti sentire un'esplosione di sapore che magari ti fa venire voglia di masticarlo. Resisti ancora per qualche istante. Rimani con questo desiderio. Senti come si sta a provare il desiderio di assaporare pienamente qualcosa. Nota come la consistenza dell'acino risponde alla pressione dei tuoi incisivi. Ed ora comincia con dei piccoli morsi. Come se dovessi incidere ogni singola ruga dell'acino. Riesci per caso a sentire il rumore dei tuoi morsi? Come risponde il viso a questo movimento delicato che stai facendo con i denti? Porta la tua attenzione sul sapore e nota come probabilmente ora sta cominciando a ridursi in piccoli pezzetti nella tua bocca. Il sapore ti ricorda qualcosa? La consistenza è cambiata ora? Che sensazioni ti danno i piccoli pezzetti al palato? Senza ancora ingoiarlo nota eventuali cambiamenti nella bocca e nell'acino. Vedrai che se ancora non lo hai ingoiato lentamente sparirà dalla tua bocca lasciando magari qualche piccolissimo frammento. Ora bevi un sorso di acqua e nota nella temperatura prima di deglutirlo. Vedi se riesci a tenere l'acqua in bocca per qualche istante e nota la sensazione del palato e della lingua a contatto con l'acqua. Nota se percepisci la voglia di deglutire e com'è resistere per qualche secondo. Ora vedi se riesci a percepire un leggero movimento in gola mentre deglutisci l'acqua. Ora prendi il secondo chicco di uva passa guardalo con curiosità nota se ci sono delle differenze rispetto al precedente quello che ho in mano io ad esempio è un po' più piccolo e anche il colore è diverso così come le rughe e la consistenza. Di questo chicco approfondiremo la provenienza cos'era prima di diventare uva passa? Era uva in un vigneto in chissà quale parte del mondo aveva bisogno di determinate cose per vivere e crescere bisogno della terra di un posto in cui crescere della luce dell'acqua dal cielo e cioè della pioggia ma anche dell'acqua irrigata da chi la stava coltivando. Se lo guardi da vicino forse riesci a vedere dove prima si trovava il peduncolo e cioè la parte che lo teneva aggrappato al tralcio dove passano le sostanze nutritive del terreno del sole e dell'acqua. L'uva passa non può esistere senza il terreno e questo chicco è proprio il terreno così com'è la luce così com'è l'acqua Il terreno probabilmente si è formato da detriti di roccia vulcanica di chissà quanti secoli fa Tutte le sostanze nutritive del terreno provengono dagli animali e dalle piante che si sono decomposte su quel terreno A pensarci bene l'uva passa contiene davvero tutto Inoltre pensa da chi è stata coltivata e da chi è stata raccolta quando era ancora uva Pensa al lavoro intenso di queste persone Nel raccoglierla forse l'hanno messa in una scatola o in un contenitore e l'hanno lasciata lì dentro per il tempo necessario all'asciugatura fino a quando la sua disidratazione gli ha portato le rughe modificandone anche il colore in quello che ora stai guardando Queste casse di uva passa sono poi probabilmente state imballate e caricate in un camio per essere trasportate in uno stabilimento dove i singoli acini sono stati confezionati in buste di peso diverso che poi sono arrivate a te così come la busta dalla quale hai preso i due acini Chissà quanti chilometri hanno percorso gli autisti di camion per andare a prelevarle dall'impianto e portarle nel punto vendita dove tu hai acquistato la busta e tutto questo non sarebbe possibile senza i carburanti che vengono estratti dal sottosuolo di chissà quale paese del mondo E pensa anche a chi ha costruito quei camion di trasporto a quante persone lavorano in quella fabbrica C'è così tanto in quest'uva passa compreso il negozio dal quale l'hai acquistata il commerciante che te l'ha venduta il commesso al quale l'hai pagata Ed ora qui nella tua mano in questo piccolo chicco realizzi che c'è tutto il sole il cielo la pioggia la terra le persone le macchine il lavoro le distanze In un certo senso nulla è separato anche un semplice chicco di uva passa contiene l'universo Tutto è collegato Questo è un esercizio di consapevolezza pensare a come ogni cosa contenga moltitudini di altre cose piante, animali e persone Non c'è nulla di veramente separato da una qualsiasi altra cosa Ora se vuoi puoi mangiare questo secondo chicco di uva passa magari non con lo stesso ritmo con cui hai mangiato l'altro Concediti però il tempo di osservarlo con curiosità di assaporarne la consistenza respirarne il profumo portando l'attenzione alle sensazioni che ti dà mangiarlo E nell'arco della prossima settimana cerca di attivare lo stesso senso di curiosità ed esplorazione alle azioni che svolgi quotidianamente come lavarti i denti portare a spasso il cane farti una doccia prepararti per andare al lavoro Insomma tutte quelle azioni in cui puoi fermarti per un istante e notare dove sei cosa stai facendo e a cosa stai pensando mentre lo fai Questa sarà la tua pratica informale per questa settimana mentre la pratica formale quotidiana sarà la scansione del corpo L'obiettivo è vedere se riesci a portare quel tipo di curiosità e attenzione alle sensazioni del tuo corpo Sul sito troverai molte altre pratiche guidate in italiano qualunque sceglierai approcciala con gentilezza Nota se riesci a mettere da parte le aspettative La pratica serve ad imparare a stare con le emozioni con le sensazioni a stare nel momento presente e ognuno di noi quindi la vive in maniera diversa Non c'è un modo giusto per farla che vada bene per tutti c'è il tuo modo la tua intenzione e la tua volontà Buona pratica Grazie a tutti 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 Grazie a tutti